perché queste partite sono più difficili dopo le soste e anche mentalmente noi abbiamo avuto approccio fin da subito e alla fine siamo riusciti a fare quello che era più importante quello di vincere. Devo ringraziare ai miei compagni e al mister che mi hanno accolto benissimo e mi hanno aiutato tanto in questi giorni. Anche io da solo sto cercando di capire il prima possibile tutto come funziona qui e penso che devo solo continuare così e ancora lavorare più forte ma la cosa più importante è che noi abbiamo vinto oggi e dobbiamo continuare tutti insieme così. La cosa più importante è fare gol però io oltre a fare gol vorrei migliorare su tutti i punti di vista anche nel gioco, nel paleggio e smarcamenti e tutte le cose che possono servire alla squadra. Non mi ha chiesto niente di particolare, mi ha detto solo di stare calmo, di non avere ansia e che andrà tutto bene. Alla fine come ho detto siamo riusciti a vincere e questa è la cosa più importante ma è ancora più importante continuare così. Come ho detto in conferenza Juve sempre punta gli obiettivi più alti e ogni competizione quando comincia penso che lo Juventus punta sempre a vincerlo. Per questo io sono qui a aiutare, a dare il mio contributo, a dare il mio massimo e poi andiamo partita per partita step by step poi vediamo alla fine stagione e faremo i conti.